...filogrammi, classe C, Alessandro Mosi contro Davide Matera, a seguire Filippo Urso contro Paolo Cesar, si preparino Gianluigi Fiore contro Durin Tupo, dopo. ...filogrammi, classe C, Alessandro Mosi contro Durin Tupo, dopo. ...filogrammi, meno 65 chilogrammi, ripeto, a seguire, sempre per questa stessa categoria, K-Wine Light, categoria meno 65 chilogrammi, Ologimir Calamarti contro Fabio Panini, a seguire, per Kick Light, categoria Baby, meno 45 chilogrammi, Salim Juali contro Marco Sciuto. ...filogrammi, salmi, 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 salmi Categoria meno 66 kg, Filippo Urso contro Paolo Seda, a seguire Gianluigi Piole contro Durin Dofu, a seguire Alessandro Fini contro Simone Gazzotti, ora su Tattami giallo, categoria meno 66 kg classe C, Filippo Urso contro Paolo Seda, a seguire Gianluigi Piole Durin Dofu, Un gancho, un gancho, un gancho Sì, è un gancho collaudo di tur catch Un gancho, intermediate Per Speranza è meno 55 per il Combat Dance Club, per il King One ovviamente Light vince Marco Lunardini Immediatamente si preparano i secondi per quanto riguarda l'aria blu